segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te bentornato marco travaglio buonasera allora riprendiamo il discorso che facevamo in apertura marco in qualche modo parliamo della guerra della propaganda allora abbiamo detto più volte in questa trasmissione ma è notorio la russia è un regime liberticida abbiamo più volte ricordato quanto l'informazione di mosca si è reggimentata quanti giornalisti abbiano pagato proprio con la vita la propria libertà spostiamoci però ad occidente c'è aria di propaganda dal tuo punto di vista nel modo in cui diamo le notizie sulla guerra beh sì c'è stata una propaganda che per tre mesi ci ha raccontato che era imminente la controffensiva ucraina e che per questo bisognava mandare sempre più armi perché l'ucraina era lì per piegare l'armata rotta come veniva chiamata di putin che certamente ha avuto delle difficoltà ma che purtroppo i risultati sul campo ripeto purtroppo perché c'è il mondo dei sogni che è quello di una vittoria ucraina e poi c'è il mondo reale che è quello di una russia che si è presa ben più del Donbass visto che ormai controlla la striscia sul mare d'Azov e minaccia addirittura di controllare tutto diciamo la fascia sul mar nero e questo dipende dal fatto non che c'è stata propaganda occidentale perché la propaganda ci sta in guerra tutto si dice in guerra tranne che la verità da entrambe le parti ma il dramma è che qui l'occidente ha creduto alla propria propaganda e quando tu credi alla tua propaganda il risultato sono i morti in ucraina perché se tu hai un intelligence intelligente che non abbiamo perché basta vedere le previsioni sballate che erano state fatte sul sulla resistenza dell'esercito regolare afgano che hanno poi costretto gli americani a scappare perché si è sciolto in 24 ore e la stessa cosa è stata fatta purtroppo in ucraina senti illudendo gli ucraini che stavano per vincere senti li abbiamo mandati al macello e forse dovremmo smetterla ora di questo parleremo delle strategie di guerra rimaniamo sul fronte delle delle informazioni le opinioni il pacifismo corrispettivo di essere filo putin questo è un meccanismo che si è innescato nella mente di chi dal tuo punto di vista ma di chi è in totale malafede pretendere che i pacifisti diventino dei fautori della guerra o dell'invio delle armi è ridicolo tra l'altro non esistono pacifisti nei governi occidentali quindi tutta questa guerra ai pacifisti è totalmente folle esattamente come la caccia al putiniano in italia non c'è nessun putiniano tra tra quelli che fanno opinione ci sono diverse opinioni non su chi ha innescato questa guerra dal 24 febbraio e putin indiscutibilmente l'aggressore ma su come se ne esce allo stesso modo questa caccia al pacifista è ridicola che cosa deve fare un pacifista diventare bellicista per accontentare qualcuno ci sono però non ci sono governi pacifisti il problema dei nostri governi non sono i pacifisti sono i governi che hanno alimentato questa guerra l'hanno allungata credendo alla propaganda che stavano facendo tanto i morti li mettono gli ucraini allora marco aspetta perché su questo poi ci possiamo anche confrontare c'è naturalmente la tesi che se non ci fosse stata una resistenza dura e le conseguenze sarebbero state anche peggiori per questa guerra ma ci arriviamo alla fine a me interessa al momento il mercato delle idee no allora ci sono dei putiniani ci sono i putiniani che ad esempio abbiamo invitato anche noi in questa trasmissione giornalisti russi che dal punto di vista di molti commentatori rilanciano la propaganda putiniana è giusto e sbagliato farli parlare dal tuo punto di vista ma a me non interessa sentire un russo e illudermi che stia raccontandomi la verità a me interessa sentire un russo per conoscere il punto di vista russo e cercare di capire dove vuole arrivare il governo russo di cui quel giornalista è espressione nessuno è così scemo che sente un giornalista russo in televisione e quindi diventa filo putiniano questa è una leggenda metropolitana che è un'offesa per i cittadini invece è interessante sentire il punto di vista dei russi perché hanno un punto di vista diverso dal nostro se potessimo avere putin intervisteremo putin non potendo ci arrangiamo con il giornalista ma magari abbiamo visto tante polemiche per l'intervista a lavrov a rete 4 l'altro giorno l'ha intervistato la televisione nazionale francese non mi pare che l'abbiano messo particolarmente in difficoltà e nessuno ha obiettato nulla ci mancherebbe altro che su una guerra scatenata dal governo russo noi non ascoltassimo il governo russo poi gli facciamo la tara ma li dobbiamo ascoltare perché quella è informazione quello è il lavoro proprio del giornalista che effetto fa allora vedere il comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica occuparsi di tv e di regole dei talk mi fa ridere mi fa ridere mi fa pensare che siamo arrivati politicamente a un livello da neuro deliri se il comitato che dovrebbe controllare i servizi segreti italiani si occupa di investigare se per caso un giornalista dipendente del governo Putin ha qualcosa a che fare col governo Putin ma lo sa anche un bambino che ha a che fare e che bisogno c'è di investigare di che cosa si stanno occupando il dramma è quando poi certe cose che dicono gli analisti che vengono trascinati davanti al Copasir le dice Kissinger e allora cosa facciamo trasciniamo pure Kissinger davanti al Copasir per vedere se anche Kissinger non è forse un putiniano allora veramente siamo a ridicolo arriviamo all'esempio clou lo stato di salute dei leader si è molto discusso dello stato di salute di Putin di Biden come li abbiamo trattati ti faccio vedere un nostro servizio Putin il 9 maggio ha assistito alla parata con una coperta sulle gambe e negli ultimi tempi in molti si sono preoccupati per il gonfiore del suo viso visto che fino a poco tempo fa era così per il presidente Biden dopo la faticosa salita della scala dell'Air Force One è già famosa la stretta di mano fantasma ripetuta più volte più di una volta ha confuso nomi importanti Putin con Trump sempre Trump ma questa volta con Obama poco tempo fa in Texas non riusciva nemmeno a pronunciare dei nomi e ha dimenticato di avere il microfono acceso mentre insultava seppur sussurrando un giornalista allora dobbiamo preoccuparci da una parte e dall'altra a quanto pare come è stato raccontato lo stato di salute dei leader che è uno dei punti più fermi della stampa anglosassone la prima cosa è monitorare lo stato di salute di chi governa beh sì qui non c'è nemmeno bisogno di monitoraggio perché come si è ridotto Biden lo vediamo tutte le volte che parla un presidente che viene smentito dal portavoce della Casa Bianca quando dichiara guerra alla Russia senza nemmeno rendersene conto e dice che bisogna rovesciare il governo di Mosca e subito dopo la Casa Bianca e il suo segretario di Stato dicono non voleva dire quello che ha detto dall'altra parte ci sono sicuramente dei forti indizi sul fatto che Putin abbia dei problemi di salute ricordo che per vent'anni gli italiani si cullarono nell'illusione che prima o poi a eliminare Mussolini ci avrebbe pensato il diabete in realtà alla fine ci hanno pensato i partigiani sparandogli quindi anche questa leggenda secondo cui la malattia ci libererà di un problema nelle democrazie di solito si cerca di eleggere uno un po' meno rincoglionito e quindi speriamo che la prossima volta gli americani ne trovino uno visto il livello degli ultimi e nelle autocrazie non è mica detto che se anche venisse meno Putin arriverebbe uno meglio magari arriva uno più in salute ma ancora più feroce di lui la differenza in effetti è che gli Stati Uniti possono contare su un sistema che comunque bypassa eventualmente lo stato di salute di Biden mentre la Russia dipende completamente dal dittatore siamo al punto da cui volevi partire la guerra dal tuo punto di vista come sta andando? sta andando purtroppo abbastanza bene per i russi e abbastanza male per gli ucraini chi lo diceva all'inizio prevedendolo e facendo una previsione corretta veniva appunto tacciato di putinismo mentre era semplicemente un esperto non è un caso se i più accaniti fautori di un negoziato in Italia sono stati proprio dei generali e noi siamo abituati a considerare fumettisticamente come le struntruppe in realtà le struntruppe si sono infoltite di incompetenti e di persone che non conoscono le questioni strategiche e militari mentre invece per giorni e giorni abbiamo sentito dire che chi diceva la pura e semplice verità che non c'entra niente con quello che è giusto e con quello che è sbagliato perché sarebbe giusto e sacrosanto ed etico se la eroica resistenza degli ucraini avesse successo ma dato che purtroppo siamo in una guerra e l'Occidente ha scelto il terreno della guerra dopo che lo aveva imposto Putin perché ha detto risponderemo fino a ricacciare i russi oltre i loro confini ci sarà un momento in cui si esce dal mondo dei sogni dell'etica e delle anime belle e si va a vedere quello che succede sul campo e si scoprirà che purtroppo i russi si sono presi il Donbass, la fascia sul mare da Zov e rischiano di prendersi anche la striscia sul Mar Nero e cosa vogliamo fare? Continuare ad aspettare nel mondo dei sogni che scatti la famosa controffensiva oppure cercare di salvare quella sovranità che ancora è enorme della Ucraina rimasta libera e indipendente e fare quello che per otto anni ci si è rifiutati di fare cioè di dare autonomia al Donbass e di far scegliere alle popolazioni del Donbass con un referendum con chi vogliono stare la sovranità è enorme perché la resistenza ha resistito perché se non avesse resistito la Russia sarebbe già Kiev magari allora dice chi si oppone a questa teoria una cosa è andare al negoziato una volta che la Russia ci ha messo tre mesi per prendere il Donbass un'altra è andare al negoziato con la Russia che in tre mesi poteva essere arrivata a Leopoli Ma sai, tutto questo attiene al processo alle intenzioni che si è fatto fin dall'inizio nella testa di Putin oltre ad attribuirgli tutte le malattie del mondo gli manca solo l'allergia all'ossigeno e alla filossera e la filossera come diceva Woody Allen in un film gli abbiamo attribuito anche un sacco di intenzioni perché non dimentichiamoci che c'era chi sosteneva che voleva invadere l'intera Europa come Hitler nel 39-40 poi abbiamo scoperto che non è nemmeno entrato a Kiev e lì c'è qualcuno che dice che il famoso colonnone di carri armati era un diversivo per distrarre l'attenzione dell'esercito ucraino altri invece dicevano che ci ha provato e non ci è entrato ma in ogni caso, dato che nella testa di Putin non c'è nessuno limitiamoci ai fatti in questo momento controlla il Donbass e quella lunga striscia sul mare che prima non gli apparteneva bisogna uscire dal mondo dei sogni entrare nel mondo della realtà e domandarsi sono più importanti quei territori o è più importante la vita delle persone perché all'inizio lo dicevano soltanto i cosiddetti pacifisti e i cosiddetti putiniani adesso lo ha detto ed è una notizia importantissima Zelensky domenica domenica Zelensky ha dichiarato noi se dovessimo recuperare i territori del Donbass e della Crimea pagheremmo un costo di vita umana inaccettabile questa è una super notizia e forse questa cosa Zelensky l'ha potuta dire perché non ha più i mitra del battaglione Azov diciamo più che altro l'opinione pubblica sotto i pantaloni perché il battaglione Azov in questo momento è prigioniero dei russi perché uno degli ostacoli ha negoziato sono quei bei nazisti che sono stati presi prigionieri nell'acciaieria come dicevamo anche nella parte precedente il nostro dibattito l'opinione pubblica ora che non c'è più il simbolo del battaglione che deve resistere a Mariupol potrebbe iniziare a aprire l'idea di un negoziato anche con l'invasore ti chiedo un flash cartello 42 e le nuove sanzioni ora ne parleremo nel nostro dibattito che impressione ti fa l'idea che da gennaio 2023 si inizierà a dare lo stop all'importazione del petrolio russo? del petrolio che arriva via mare? sì perché restano fermi gli oleodotti di ungaresi e tedeschi sì due terzi la prima impressione che mi fa è che prima ancora di esistere quell'embargo che inizierà tra sette mesi che adesso non c'è ha già prodotto un aumento vertiginoso dei prezzi i russi stanno già calcolando che con l'aumento del prezzo del petrolio potranno fornirne molto meno e guadagnare più o meno lo stesso le sanzioni purtroppo sono sempre armi a doppio taglio ci sono paesi che campano da 40 anni sotto sanzioni hanno difficoltà ma l'idea che le sanzioni pieghino un paese delle dimensioni della russia era un'idea illusoria faceva parte sempre di quella propaganda che al posto di raccontarla senza crederci abbiamo raccontato credendoci Marco Travaglio grazie grazie